Baby spacciatore di droga e anche ladro di gioielli. La rivelazione ha scioccato Costa Volpino dove in due giorni un quindicenne è stato accusato prima di aver venduto marijuana a tre bambini di 10 e 12 anni, poi di aver svaliggiato la casa di un compagno di scuola dopo essersi impossessato delle chiavi dell'abitazione per un bottino del valore di 10.000 euro. Le indagini partite a dicembre sono ancora in corso e sarebbero almeno tre i bambini, uno di 10 e due di 12 anni, che si rifornivano di erba dal quindicenne residente in paese. Il ragazzino di origini serbe, studente delle scuole medie, è ora rinchiuso nel carcere minorile Beccaria di Milano. I carabinieri di Costa hanno individuato e denunciato anche i tre complici maggiorenni e un minorenne che avevano collaborato al furto. Una notizia che nel paese dell'Alto Sebino ha lasciato attoniti. L'età del consumo di droga si abbassa notevolmente e si teme che sia solo la punta di un iceberg che nasconda un traffico ben più esteso e radicato. Bambini che fumano droga, ragazzini che la vendono e rubano, un allarme sociale che preoccupa genitori ed educatori. Fino ai 14 anni infatti un ragazzino non è imputabile e quindi anche eventuali casi di spaccio sotto quell'età non arrivano all'attenzione degli inquirenti. Il mondo degli stupefacenti ha legami sempre più saldi con i giovani e gli adolescenti. Si tratta di un fenomeno in aumento costante. Spesso sono i minorenni stranieri a ricoprire il ruolo di spacciatori ma non di consumatori. Vendono per vivere mentre gli italiani spacciano quando hanno bisogno di soldi per comprarsi la droga. Ricevono cioè le dosi in conto vendita da un distributore di livello superiore, spesso straniero e maggiorenne. Ma l'aspetto preoccupante è che questi baby spacciatori non hanno cognizione della gravità del reato che compiono.